la presentazione del nuovo brand e nuovi palinzesti appunto della nostra emittente di InBlu 2000. Ebbè è una piccola rivoluzione per le nostre emittenti, nata durante i giorni della pandemia. Novità che vi dicevo che riguardano anche il nostro telegiornale, come avete potuto notare, come state notando. Beh è cambiato un po' sicuramente il brand, lo vedete in alto molto elegante, anche un po' la veste grafica del nostro telegiornale. Ecco le immagini in diretta, ci fanno vedere il nostro direttore, il direttore di rete e il direttore delle news, che sta parlando e sta illustrando le novità del palinzesto. E tra le novità del nostro palinzesto ci sarà sicuramente la seconda stagione di Canonico 2, e serie tv con Michele Laginestra, Pagni e Pesci, un programma di economia del Vangelo con Luigino Bruni e avanzi il prossimo, il talent di cucina etica nella logica del riciclo e di rifiuto dello spreco con tinto e fede. Beh in bocca al lupo a tutti noi allora.